Qui vi presentiamo le 5 migliori piastre per capelli a vapore. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. I Gutec Piastra per capelli a vapore con pettine. È progettato con 3 più 2 fori che assicurano uno scarico costante di vapore di 2,7 gmini. In questo modo gli ioni d'acqua permeano i capelli, dal puntatore alle radici, dando al 50% ancora più idratazione ai peli. Questa esclusiva tecnologia moderna consente capelli setosi, sani ed equilibrati e anche dall'aspetto naturale. I pettini in ceramica 3D mantengono i capelli uniformemente riscaldati, riducendo le doppie ponte e anche la possibilità di... Passando al numero 4. Piastra per capelli a vapore, piastra 2 in 1. Questo è un modello 2 in 1, creato per darti lo stile desiderato. Ti consente di levigare perfettamente i capelli o modellare riccioli soffici. Il bruciatore PTC assicura un rapido raggiungimento del livello di temperatura desiderato, consentendo di scegliere 5 vari gradi da 120 C a 200 C. La piastra alla deriva 3D con rivestimento ceramico della tourmalina garantisce una sicurezza ottimale per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Babyliss ST 395 Pro Stem Piastra lisciante a vapore con rivestimento titanium ceramica. Creata con funzione ionica, la raddrizzazione elimina il crespo e l'energia elettrica dalle serrature, soggiogando anche uno dei capelli più ridelli. Corregge correttamente i capelli in modo duraturo e profondo. Il getto di vapore prepara i capelli al calore delle piastre e fornisce la percentuale ideale di idratazione per estendere la fibra capillare e anche lisciarla con un solo tratto. Per questo motivo, i capelli rimangono intensamente lucidi, lisci e setosi per lungo tempo. Almost at the top of our list at number 2. L'Oreal Professionnel Piastra per capelli Stem Pod Bianco. Modella delicatamente i capelli e fissa le sue fibre, rendendo così certo un risultato duraturo. Adatto a tutti i tipi di capelli, è creato con un contenitore esterno per l'evaporazione. Il suo pettine rimovibile consente di ottimizzare il contatto dei capelli con la piastra. La perfetta levigatura, dalle origini alle estremità, è assicurata da un lancio di vapore di 3,5 g. Min. E infine il numero 1 della nostra lista. Imetec Bellissima Mi Pro Stem B-2800 Piastra per capelli Professionale a Vapore. Questa raddrizzatura a vapore specializzata consente di ottenere una liscia luminescente che dura a lungo, anche su capelli ricci, crispi, vulnerabili o rotti. Il vapore pesante li protegge e li protegge dal calore e ripristina il livello ideale di idratazione della fibra capillare. Il contenitore offre fino a 100 passaggi, equivalenti a due stili completi. Dalle aperture poste sulle piastre riscaldate, viene inviata la giusta quantità di vapore per stirare perfettamente la serratura, favorire la distensione delle fibre dei vasi sanguigni e anche ridurre lo shock termi. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.